Ricordando gli anni del liceo, mentre scrivevo i dissipati, mi è tornato alla mente un episodio che mi è accaduto quando facevo forse il terzo o il quarto. Eravamo negli anni Ottanta e, come tutti noi che li abbiamo vissuti, ricorderemo che a quel tempo imperversavano i Levis 501, il Giubbotto Moncler, insomma questo tipo di abbigliamento. Ma io, per quella sorta di narcisismo o, se vogliamo, di subrettistica vanità che mi portava sempre a fare ciò che non facevano gli altri, invece vestivo regolarmente in giacca e cravatta e questo ai cosiddetti superiori del collegio dove studiavo andava benissimo. Altro discorso invece era per la capigliatura. Negli anni Ottanta i capelli andavano corti o comunque medi e governati con il cosiddetto gel che si aveva anche gommina all'inizio. Io invece i capelli li portavo lunghi e con le basette, i favoriti, lunghi fino a qua. Il mio modello era la capigliatura dell'Elvis Presley anni settanta, il mio idolo canoro e quindi ho comunque una capigliatura degli anni settanta to court. Un giorno, mentre salivamo le scale per rientrare in classe dopo la ricreazione, il vicepreside che si chiamava Frer Natalino e che adesso con le acquisite cognizioni di psicologia devenirei tranquillamente un maniaco del controllo, o comunque diciamo uno con la vocazione del sergente maggiore, mi fermò e indicandomi i capelli e soprattutto le basette mi apostrofò dicendo sei Mazziniano? Ora io Mazzini l'avevo studiato insomma ma non era né più nemmeno che un personaggio storico come Garibaldi, come Vittorio Morale II, come Barbarossa insomma Mazziniano sicuramente lo sono più adesso di quanto potessi esserlo allora ma evidentemente quel richiamo al risorgimento con Mazzini per lui era soprattutto un amaro richiamo alla sovversione a quel perché naturalmente a loro non era mai andato giù quel famoso 20 settembre che aveva strappato lo scettro del potere temporale al sommo pontefice romano, cosa che appunto mal sopportavano e però diciamo Mazziniano io rimasi abbastanza basito capì che era ironico il suo riferimento dissi un semplice no e lui mi fece segno tagliare, tagliare e mi rimandò in classe. Non mi venne in mente assolutamente di andare ad approfondire cosa potesse significare Mazziniano, come ripeto Mazzini l'ho apprezzato e anche molto ma anche molto tempo dopo e naturalmente i capelli e le basette non le tagliai.